E' stata attivata la cabina di regia presso la prefettura di Salerno, alla quale è stato dato il compito del coordinamento tra tutti gli enti e comuni interessati dall'interruzione idrica che a partire da oggi interesterà fino al 25 maggio numerosissimi comuni in provincia di Salerno ed anche il centro capoluogo. A coordinare gli interventi è stato il prefetto di Salerno, Francesco Russo, che ha spiegato i dettagli del piano per fronteggiare l'emergenza idrica. Ho predisposto un piano che prevede, per quanto riguarda le installazioni sensibili, quindi ospedali, case di cura o altri centri che hanno una sensibilità dal punto di vista sanitario, un intervento dei vigili del fuoco con delle autobotti, tre che girano praticamente per questi vari punti, centri sanitari. Per quanto riguarda invece i comuni, mettendo insieme otto autobotti fornite dalla regione Campania a protezione civile, più circa dieci da parte dei comuni praticamente, sono organizzati insieme anche alle società che forniscono acqua ai vari comuni, si è stabilito di affidare ad ogni autobotti un determinato comune o anche più di un autobotti, parliamo di comuni anche grandi. Per cui il sistema è stato completato in questo modo qui. La protezione civile ha fatto uno sforzo il più completo possibile per garantire comunque che in emergenza, anche nell'ordinarietà, si possa comunque attingere. L'acqua evidentemente dell'autobotti è sempre non potabile, ma questo è noto, quindi serve per esigenze diverse da quelle alimentari. Però noi con un buon raccordo e una buona collaborazione da parte di tutti, considerando l'importanza, ripeto, come dicevo all'inizio dell'intervento che bisognava fare, abbiamo raggiunto dei buoni risultati. Grazie a tutti.